ciao eccoci con la consueta rubrica settimanale top 5 video dove abbiamo selezionato i 5 migliori video realizzati da altri insegnanti di tennis e pubblicati la settimana scorsa nel web li abbiamo messi assieme in un'unica pagina in maniera tale che tu possa consultarli comodamente senza andarli a cercare in giro per vedere questa rubrica è sufficiente iscriversi alla nostra newsletter c'è il link qui in alto a destra se ci stai guardando nel nostro canale youtube oppure clicca nel link presente nella biografia nel profilo instagram o pagina facebook ma andiamo a vedere un'anteprima della rubrica nel primo video nicola racic di intuitive tennis mostra il corretto uso della gamba posteriore nel servizio aspetto tecnico fondamentale soprattutto per creare spinta nel secondo video invece jeff salzestein di tennis evolution mostra come riuscire a dare maggiore rotazione in top spin al dritto se giocate invece il rovescio a due mani allora vi consiglio di guardare il terzo video dove ryan di ciumino tennis analizza il rovescio a due mani per l'appunto nei minimi dettagli e fornendo qualche consiglio per allenarlo anche a casa nel quarto video invece si parla di tattica di gioco nel singolare lo fa scott di player court.com analizzando alcuni schemi tattici di base nell'ultimo video invece torniamo sul servizio e nello specifico sul lancio di palla dove brady di daily tennis lesson mostra come riuscire ad avere un buon lancio di palla e un buon controllo durante il lancio